Lucia De Soccio dunque da anni, da molti anni impegnata, posso dire da sempre, nel mondo della pallavolo e veramente devo esprimere soddisfazione per quest'ultimo risultato che avete avuto perché due vostre ragazze sono state convocate in rappresentative assolutamente importanti. Sì, allora praticamente Giovanna Fratangelo che già faceva parte del Club Italia Sud è stata poi accompagnata, grazie alla visione del grande Bencarelli in un altro stage, a Chiara Martinelli come libero. Entrambe su 14 atlete scelte dal Club Italia Sud faranno parte del club e andranno in Croazia a fare un torneo internazionale. Tra l'altro Giovanna Fratangelo dal 27 agosto non sarà più nel Molise ma sarà stabilmente al centro pavesi dove in pratica c'è il massimo della pallavolo e dove il maestro Mencarelli che io stimo tantissimo ne farà sicuramente una giocatrice di alto livello. In pratica lei farà un percorso protetto soprattutto perché devi sapere che questi giovani atleti sono preda di procuratori, società eccetera eccetera. Noi invece abbiamo deciso anche a muso duro di aspettare questo momento per lei perché potesse essere il momento migliore per andare in un posto dove veramente la ragazza avrà un percorso che potrebbe essere simile a quello della Orro, a quello della Egonu. Per cui noi abbiamo avuto grande fiducia in questa attesa e grande soddisfazione. Certamente, una grande soddisfazione anche perché voi insomma lavorate in maniera continua quindi meritate anche questo genere di soddisfazioni. Ultimamente si è rifatto anche il look, il palazzetto, chiamiamolo palazzetto, la palestra. Sì, grazie all'intervento di Equilibrium e grazie al Trofeo delle Regioni, all'Under 14 nazionale grazie al Comitato regionale che è stato veramente bravo ad organizzare perché è stata veramente dura. Abbiamo avuto questo aiuto che chiaramente ci è giunto a Fagiolo e noi continueremo a lavorare e a tenere quella palestra come un nostro gingillo, come è sempre stato tant'è che abbiamo avuto grandi complimenti per tutte le strutture molisane tranne che per i parcheggi dei Campobassani. C'è stata una lamentera da parte dei grandi pullman, delle grandi delegazioni. Però vabbè, fa parte del gioco, è stato tutto molto bello. Noi quella palestra la renderemo sempre più accogliente e soprattutto dobbiamo tirare fuori altri Chiara Martinelli e Giovanna Fratangelo. Senti, quanto iniziate? Noi subito dopo per agosto, anche perché ora stanno tutti in vacanza, abbiamo grandi idee, nuove idee per queste nuove giovani. Chiaramente dobbiamo ricominciare un ciclo perché perdendo una palleggiatrice come Giovanna sicuramente andremo un po' in affanno. Però siamo abituati, siamo contenti che la ragazza giocherà a livelli superiori per cui per noi va benissimo tutto, siamo sempre pronti, spalle grosse. L'importante è che c'è la salute.